Grazie. Ciao a tutti, siamo una delegazione della redazione di Lercio.it e stasera volevamo raccontarvi chi siamo, cosa facciamo e fare una panoramica allargando il contesto per vedere come quello che stiamo facendo noi, cioè le notizie false, spero che sappiate se ci seguite. Ho già riduto, l'hai visto? Come le notizie false, quindi si sono diffuse quali sono stati i primi casi a livello mondiale, come vengono esposte queste notizie false al mondo, quali sono stati i precedenti in Italia, eccetera, eccetera. Quindi allargare un pochino lo sguardo oltre Lercio per capire un pochino da dove nasciamo e come siamo messi a livello mondiale e storico. E poi, già vi posso pronunciare che avremo qualche ospite a sorpresa stasera, spero gradito, vi posso fare solo un nome, Mina, e poi altri che verranno annunciati in corso d'opera. Allora, partiamo raccontando la nostra storia. Allora, il nostro sito, Lercio, nasce nell'ottobre del 2012, quindi insomma è relativamente recente, però in realtà la nostra storia parte un pochino più da lontano, perché noi ci siamo tutti conosciuti, noi redattori, nella palestra di Daniele Luttazzi. Daniele Luttazzi, nel maggio del 2009, ha aperto all'interno del suo blog uno spazio chiamato alla palestra, dove invitava i lettori ad inviare battute sul fatto del giorno. Vediamo cosa dice, aperta la palestra è il luogo dove allenare e esibire i vostri muscoli satirici, inviatemi le vostre battute sui fatti del giorno, usate come premessa della battuta un titolo di giornale. Sceglierò quelle che mi piacciono e le pubblicherò. Quindi è importante capire che il tipo di battute di cui si parla è quella con la struttura classica, quindi un titolo di giornale, un fatto vero iniziale, su cui viene fatta una battuta, un commento satirico e sagace. E poi le battute venivano firmate con nome e cognome. Quindi, visto che in quegli anni si stavano anche diffondendo in Italia social network, i più assidui frequentatori della palestra, quelli che vedevano pubblicate le loro battute, avevano iniziato anche a contattarsi tra di loro su Facebook, si provava a vedere, insomma, fammi vedere questo Alfonso Biondi, se esiste, chi è, se riesco a scambiarci due parole, o il Vittorio Lattanzi di turno, eccetera, eccetera. E quindi si stava iniziando a creare anche un minimo di contatti tra i frequentatori della palestra di Luttazzi. Poi, ok, quindi, la palestra di Luttazzi, come dicevo, quindi prevedeva di fare battute con la struttura classica, un fatto vero, più il commento satirico, che più o meno è quello che veniva fatto in molti show americani, che sono stati conosciuti poi anche in Italia grazie al satellite, come il David Letterman Show, il Gerino Show, eccetera, eccetera. E che poi, negli anni intorno al 1996, lo stesso Luttazzi aveva portato a My Dear Goal con il format di tabloid, in cui anche lì faceva fondamentalmente, leggeva notizie e poi faceva la battuta satirica. Qualche anno più tardi, un esperimento simile di satira collettiva con la stessa struttura delle battute è stato Spinosa, che è aperto nel 2008. Per quel che ci riguarda, quando ha chiuso la palestra di Luttazzi, visto che un po' di noi, come dicevo prima, erano riusciti a tenersi in contatto e ad allacciare dei rapporti virtuali, perché nessuno di noi si conosceva di persona, nel momento in cui Daniele Luttazzi ha deciso di chiudere la palestra, abbiamo deciso, visto che ci piaceva fare battute satiriche sui fatti del giorno, di provare a proseguire questa esperienza aprendo un blog che si chiamava Acido Lattico, che si chiama perché esiste tuttora, infatti è aperto nell'ottobre del 2011 ed è ancora vivo, dove praticamente continuavamo a fare le stesse cose appunto della palestra di Luttazzi. Poi un componente del nostro collettivo satirico, Michele Incollu, un giorno decise di dimostrarci un po' un esperimento che aveva fatto su una sua pagina personale. Aveva creato una parodia dell'aggregatore di notizie, Leggo.it, e quindi voleva portare in giro un pochino un certo tipo di giornalismo, chiamiamolo 2.0, quindi quello che è nato e si è sviluppato con la rete, che è molto sensazionalistico, basato sul clickbaiting e più quindi sull'accappiare il lettore che sull'approfondimento dei contenuti. E parodiando un pochino anche il nome, da Leggo l'aveva chiamato Lercio, utilizzando anche gli stessi fonti, gli stessi colori, eccetera, eccetera. E quindi cosa facevamo noi in Lercio? Notizie false, che sono chiamate anche, usando un anglicismo per fare un po' i fighi, fake news o mock journalism. Qual è la differenza rispetto a quello che abbiamo visto finora? Che qui il titolo falso è direttamente la battuta, quindi non abbiamo bisogno di partire da un dato reale, ma ci inventiamo direttamente noi una nostra realtà, Lercio, che però poi abbiamo scoperto che a volte è talmente assurda da divenire più reale del reale. Andiamo avanti. Allora, quindi ora, per farvi due veloci esempi di qual è la differenza anche tecnica, no? Tra una battuta, nello stile che facevamo con Luttazzi, poi in Acido Lattico e che è ad esempio in Spinosa, rispetto alle notizie false di Lercio, proviamo a vedere come lo stesso spunto possa essere trattato in due modi diversi. Allora, in ottime condizioni la Mercedes di Padre Pio messa all'asta, l'ha usata pochissimo perché gli si bloccava la mano nel cambio. Questa è una battuta di Acido Lattico e parte da un dato reale, no? Sul Lercio possiamo dire Padre Pio fu squalificato ai mondiali di Nascondino perché sbirciava dalle mani e quindi, diciamo, si ottiene, se volete, un effetto più surreale dovuto al fatto che non abbiamo bisogno di partire da un dato di realtà, ma ci inventiamo appunto la nostra realtà assurda e quindi proponiamo direttamente questa realtà e abbiamo molta più libertà creativa, diciamo. Andiamo avanti. Uscito un video del 1996 in cui Renzi imita Berlusconi, dura 18 anni. Vabbè, ora andrebbe aggiornato perché sono ancora di più. E sotto Lercio invece Renzi accende il jukebox con un pugno, ma parte l'inno di Forza Italia. Cioè, qui il messaggio satirico che vogliamo proporre è lo stesso, cioè che Renzi sia un clone di Berlusconi, però lo decliniamo in due modi diversi, no? Qui di sopra usiamo lo spunto del video del 1996, veramente uscito, in cui Renzi faceva l'imitazione di Berlusconi, e sotto invece ci inventiamo un po' la nostra realtà, questi erano i momenti in cui Renzi andava veramente comunque dalla De Filippi col giacchettino da Fonsi e quindi diciamo, però noi siamo andati oltre e ci siamo inventati questa vicenda. E ora lascio la parola a Vittorio perché parleremo un pochino di quali sono stati storicamente i primi casi di notizie false, troll, eccetera. Esatto, esatto, i comfort del mock and troll praticamente sono proprio questi. Allora, noi oggi su internet troviamo siti che creano bufale appositamente, non l'HERC, l'HERC è un sito satirico, catena umana, eccetera, li conoscete anche meglio di noi. Noi ci siamo chiesti come funzionava la bufala prima dell'avvento di internet e siamo andati a fare delle ricerche. La prima... Ecco, grazie, scusate. La prima... Probabilmente la bufala è nata insieme all'invenzione della stampa, quello che abbiamo potuto vedere. Il primo caso curioso che abbiamo trovato è stato questo qui, che risale nel 1722. In un giornale inglese, il New England Current, venivano pubblicate le lettere dei lettori. Un po' come cioè, però molti anni prima. Queste lettere dei lettori erano molto seguite e con una certa cadenza arrivavano in redazione di questo giornale le lettere di una vedova di 50 anni con tre figli, marito morto in miniera, alcolizzato, eccetera, che si firmava Silence the Good. Queste lettere che lei mandava al giornale erano degli spaccati della società dell'epoca e affrontava, a secondo del momento, alcuni temi, dall'alcolismo imperante alla situazione delle donne, alla situazione dei lavoratori nelle miniere, appunto per questo lei riusciva a toccare quasi tutti gli argomenti con le sue esperienze da vedova a 50 anni. Dopo circa un annetto, dopo che gli stessi giornalisti del New England Current la citavano, non solo, ma iniziarono ad arrivare regali e proposte di matrimonio in redazione per questa Silence the Good. Dopo un anno e mezzo si è scoperto che in realtà Silence the Good era non era altro che un ragazzino di 16 anni, era il fratello minore del proprietario della stamperia. La stamperia era di proprietà della famiglia Franklin e il ragazzo di 16 anni si chiama Benjamin, che probabilmente conoscete, padre della Costituzione americana. È stato il primo troll della storia, Benjamin Franklin. Questo è Benjamin. Esatto. O forse... Era Johnny Letto, abbiamo sbagliato slide. 1729, Jonathan Swift, Swift lo conoscerete tutti per i viaggi di Gulliver. Swift però fece in un pamphlet dove c'erano raccolti questi racconti, lui riuscì a a mettere un articolo per quei tempi davvero allucinante. Lui aveva trovato una soluzione per ridurre contemporaneamente il problema della fame e la sovrappopolazione. Aveva proposto in questo libro in questo racconto di dar da mangiare ai ricchi proprietari terrieri anglo-irlandesi i bambini dei poveri. E fa questo... E affronta il tema con molta serietà e quindi portando statistiche e facendo anche delle considerazioni. Secondo Swift, ad esempio, la donna nel momento in cui la sua proposta venisse accettata i mariti trattavano meglio le loro mogli i figli venivano visti con occhi diversi poi non solo ma lui ha messo all'interno del libro anche delle ricette per cucinare questi bambini e creò parecchio rumore tanto che rischiò il posto da giornalista scriveva per un giornale adesso non so cosa però Che facciamo? Ci andiamo? Siamo la testata più autorevole del festival ci dico Grazie per l'interruzione Ci tenevi Ci tenevo Non riesco Sono così felice che non riesco ad andare avanti Allora dicevamo Swift praticamente cosa ha fatto? Il senso satirico del suo articolo era quello che secondo lui nonostante la sua proposta così bizzarra in realtà la sua proposta pur essendo così bizzarra era comunque nettamente superiore a tutte le proposte che erano state fatte dai politici dell'epoca perché lui riusciva a prendere due piccioni con una fava rispetto al resto Cambiamo i miei slide Grazie Allora facciamo un salto di un centinaio d'anni e arriviamo all'uomo pietrificato Allora l'uomo pietrificato a quei tempi c'era una corsa c'era una corsa c'era la corsa era una corsa a riempire i musei di oggetti meravigliosi e a quei tempi andava molto di moda la pietrificazione oggi ad esempio a noi vanno di moda le cure alternative artemise ai tempi andava di moda la pietrificazione che era la gente voleva avere gli oggetti pietrificati e quindi i musei eccetera un giornalista scrisse per il territorio enterprise un articolo che praticamente parlava proprio di questa pietrificazione e parlava di un indiano che era stato trovato pietrificato da alcuni ricercatori che potete vederlo in foto esatto proprio in questa posizione beh prima non c'erano prima c'erano i daguerrotibi all'epoca non c'erano le foto quindi i giornali erano come i disegnini del fatto quotidiano il primo anno che è uscito insomma potevi disegnare un po' quello ognuno poteva disegnare quello che voleva questa era l'interpretazione e questa l'autore di questa bufala questa è una vera e propria bufala è stato Mark Twain Mark Twain si era stancato di sentir parlare le persone di pietrificazione soprattutto a Vanvera e ha cercato di punire tutto il ha cercato tra virgolette di punire satiricamente tutti questi boccaloni esatto dell'epoca questa l'abbiamo segnalata perché è stata la prima bufala che dagli Stati Uniti è stata avarcata l'oceano è arrivata fino a Londra ed è stata pubblicata dalla più autorevole rivista inglese scientifica dell'epoca che era il London Lancet e quindi poi Mark Twain un po' più avanti ha spiegato tutto quanto l'aveva fatto per scherzo perché odiava alcuni personaggi che l'avevano e lui si voleva togliere la soddisfazione di vedere quelle persone parlare del suo articolo finto e prenderlo per vero che è un po' quello che facciamo anche noi ok benissimo allora questa la conoscerete un po' tutti in 1938 la guerra dei mondi Orson Welles durante la sua trasmissione radiofonica simulò il tipico fuori onda che oggi ci mostra striscia ogni tanto praticamente fece finta di agganciare male il microfono e iniziò a leggere dei passi della guerra dei mondi a microfoni accesi ovviamente si scatenò un po' di paura tra gli ascoltatori che telefonarono alle autorità per chiedere delucidazioni su quanto è accaduto ovviamente questa cosa ha a sua volta creato un falso storico ovvero che le persone si suicidarono impazzire eccetera invece non è assolutamente vero ma semplicemente i suicidi quel giorno erano in linea con tutti gli altri giorni non era accaduto niente passo la palla al ah no c'è ancora una slide perdonatemi allora 1958 ci avviciniamo ai giorni nostri il The Realist di Paul Kasner questo questo era una copertina immaginate gli anni un'orgia tra personaggi Disney Krasner fece una cosa davvero davvero forte a quei tempi uscì un libro sulla morte di Kennedy più avanti ovviamente uscì un libro sulla morte di Kennedy su cui c'erano state delle polemiche su delle parti che erano state tagliate il The Realist cioè Paul Krasner pubblicò un falso articolo praticamente della parte uncut del di questa storia di Kennedy sulla morte di Kennedy e lui inventò questa storia sfruttando l'ambiguità di un personaggio che era Lyndon Johnson Lyndon Johnson per farvi capire veniva percepito dalla popolazione americana come un po' noi percepiamo la Kienge quindi di quei personaggi che se gli mette in bocca una frase un po' anomala fastidiosa eccetera la gente l'accetta ovviamente se se lo dicesse Mattarella o una frase la mette in bocca Mattarella nessuno ci crederebbe però anche perché Mattarella non parla anche perché Mattarella se solo riuscisse a muovere le labbra esatto cambia solo l'umidità della stanza Mattarella il grado di umidità può salire allora praticamente cosa scrisse Krasner che questa cosa se ci sono dei bambini tappategli le orecchie Krasner scrisse su quest'articolo che Lyndon Johnson cioè la moglie entrò di soppiato nella camera mortuaria dove era il corpo di Kennedy e praticamente vide Lyndon Johnson mettere il cazzo nel foro scusate il tecnicismo sì ci ho pensato un attimo praticamente di mettere sì di scopare la testa di Kennedy dal foro del proiettile Krasner scrisse questo e questa cosa ovviamente ha scandalizzato moltissimo e fu presa per molti anni a venire per Vera proprio grazie all'ambiguità del personaggio di Lyndon Johnson ora passo la palla ai campioni del mondo ok Vittorio vi ha parlato un pochino della storia dei troll del mock journalism non so se Andrea l'ha detto prima mock in inglese significa perculare quindi il mock journalism è un tipo di giornalismo che percula cosa percula percula sia la società la politica la religione ma anche l'informazione stessa è un pochino anche quello che facciamo noi oggi no perculiamo sia la società che l'informazione che il mondo dell'informazione ora in Italia abbiamo degli esperimenti cartacei tutti naufragati fare satira in Italia è molto oneroso e non sempre remunerativo però degli esperimenti molto interessanti quindi vediamo un attimo il quadro in Italia tra l'altro ci sono delle copertine bellissime divertentissime che vedremo tra un pochino vedo tanti giovincelli in sala quanti di voi hanno sentito parlare del male o conoscono il male ok bene allora il male è una rivista che nasce in un periodo storico particolare fine anni 70 inizio anni 80 è un periodo storicamente molto teso per l'Italia nasce grazie a Pino Zack ed è un giornale molto particolare nel suo genere un giornale anticlericale e aggressivo aveva delle uscite fulminanti e molto avanguardiste per l'epoca pensate ad esempio che un numero del male uscì in edicola con 10 grammi di cocaina con una bussina che aveva 10 grammi di cocaina ovviamente era del pepe però solamente c'è la genialità di pensare a questa cosa valeva appunto il prezzo del giornale c'erano tantissimi autori e vignettisti degni di nota c'era appunto Vaurosenesi c'era Vincino c'era Sparagna c'era Andrea Pazienza e una cosa molto interessante che appunto ci fa capire la caratteristica del giornale è che Pino Zac che fu il direttore per i primi numeri diceva che la censura peggiore era l'autocensura questa è una cosa molto interessante cioè il giornale non si autocensurava pubblicavano quello che volevano infatti ebbero tipo 100 processi 2 Calogero Venezia e Sparagna furono arrestati c'era il paroco di un paese che si chiamava tipo Spilimberg una cosa del genere che mi pare bruciò addirittura una copia del male in piazza per dirvi la portata per quei tempi di quello che scrivevano diciamo che il male è passato alla storia per i falsi non so se ve li ricordate i falsi del male quella fu una trovata eccezionale di un grafico che si chiamava Borsetti l'idea era molto semplice praticamente riproducevano le prime pagine giornali più famosi all'epoca quindi non so Paese Sera il giorno la stampa mettendoci delle notizie inventate da loro di sana pianta poi cosa facevano mettevano questa pagina al centro del giornale quindi rigirando il giornale questa pagina centrale questo falso ne diveniva la copertina e quindi gli edicolanti si divertivano a vedere le reazioni appunto dei passanti dei clienti che compravano questi giornali appunto credendo che fossero veri ma veri non erano guardiamo un esempio questo fu il primo falso datato 78 del male la testata è Repubblica lo Stato si è estinto cioè praticamente qui danno la notizia che il presidente Leone aveva appunto lasciato il Quirinale che hanno stati chiusi Camera e Senato e che 250.000 agenti erano rimasti disoccupati ovviamente come noterete voi è una notizia paradossale che comunque non trova un fondamento che comunque gli stessi appunto lettori potevano stentare a credere però questa cosa ovviamente rompeva un pochino i marroni nel mondo dell'informazione tant'è che Eugenio Scalfari il direttore allora di Repubblica minacciò di Quererale il male c'è questa bellissima non so se vi ricordate nel 78 poi il calcio è una cosa che noi italiani sentiamo molto nel 78 l'Italia uscì in semifinale contro l'Olanda erano i mondiali cosa fece il male uscì con questa falsa pagina del Corriere dello Sport dicendo che appunto i mondiali erano stati annullati perché gli olandesi hanno stati trovati positivi ai controlli antidoping successe che Giorgio Tosatti il direttore del Corriere dello Sport ovviamente si arrabbiò andò su tutte le furie perché secondo lui il calcio non andava mortificato ma la cosa stupefacente è che in alcune piccole zone in alcune città ci furono dei caroselli perché la gente aveva veramente creduto che i mondiali erano stati annullati per quel motivo e veniamo a questa che immagino ricorderete tutti arrestato Ugo Tognazzi è il capo dell'EBR come ho detto prima siamo in un periodo storico abbastanza particolare pieno di tensioni sociali cosa fece il male il male uscì con questa notizia su tre giornali facendo dei falsi appunto che richiamano le copertine di tre giornali il paese sera la stampa e il giorno e dicevano che appunto Ugo Tognazzi era stato arrestato perché era il capo dell'EBR nella foto ci sono dei redattori del male lo stesso direttore vincino e tra l'altro anche Remondo Vianello si rese disponibile alla burla e infatti poi leggendo l'articolo appunto si evince che anche Remondo Vianello aveva un ruolo particolare strategico appunto nella direzione delle Brigate Rosse ovviamente la cosa fu vista di buon occhio da qualcuno meno da qualche altro e a quel punto Ugo Tognazzi venne fuori rivendicando storicamente il diritto alla cazzata c'è da dire che il male purtroppo durò poco tempo durò 5-6 anni lasciò un'impronta indelebile nella satira italiana e soprattutto per quanto riguarda questo tipo di satira ci furono negli anni altri tentativi di portarlo in edicola tipo con Bauru e Vincino qualche anno fa però purtroppo alla fine è morto dobbiamo dirlo si è estinto come lo stato qui Sparagna dice che più scrivevamo enormi bugie più scoprivamo che si trattava di forme ellittiche della realtà meno false di tante cronache correnti questo è interessante perché molto spesso la linea di confine tra la realtà e la fantasia è veramente veramente sottile anche quando ti inventi qualcosa noi l'abbiamo sperimentato poi magari vi faremo vedere qualcosina anche quando noi ci inventiamo una notizia vediamo che dopo magari qualche mese questa notizia per quanto folle possa essere corre effettivamente il rischio di avverarsi Cuore questo immagino anche lo conosciate Cuore è un settimanale che veniva chiamato di resistenza umana nasce inizialmente come un allegato come un inserto dell'unità poi diventa indipendente raggiunge tirature assurde per quel periodo arrivò anche a vendere 160.000 copie pensate che il fatto quotidiano visto i dati di gennaio adesso ne vende 40.000 quindi per per i tempi erano grossissimi grossissimi numeri lo storico direttore è stato Michele Serra e diciamo che Cuore è un giornale che si intreccia in maniera indissolubile un pochino come il male ma secondo me ancora di più con appunto il periodo storico in cui viene pubblicato siamo il giornale aggiunge il suo massimo splendore nel 92 circa siamo c'è Bettino Caxi c'è Mani Pulite la gente si indigna per quello che succede c'è lo scandalo di Mani Pulite di Tangentopoli e Cuore diciamo cavalca quest'onda però lo fa in maniera intelligente perché il bersaglio di Cuore non sono solo i politici non è solo il potente di turno ma anche il cittadino medio questa è una cosa interessante il cittadino medio italiano che magari pur avendo il potere di cambiare le cose si indigna ma sta fermo lì cioè si indigna per i suoi politici però ovviamente sappiamo che la classe dirigente che i politici che abbiamo li abbiamo letti noi e sono appunto lo specchio della società era un giornale in cui c'erano un po' di tutto c'erano poesie c'erano vignette c'erano articoli però anche Cuore lo ricordiamo per le sue storiche copertine questa qui questa è fantastica un grande partito occhetto siamo d'accordo su tutto basta che non si parli di politica sapete che a sinistra storicamente ci sono state queste divisioni oppure questa che è la più famosa scatta l'ora legale panico dei socialisti cioè secondo me dopo questa copertina tutte le battute sull'ora legale ormai sono sono diventate banali ora questa è una frase di Serra volevo dire una cosa carina anche Cuore nel giro di pochi anni muore c'è stato anche lì qualche tentativo di riportarlo in vita fallito anche quello e più tardi qualche anno dopo Michele Serdi ha un'intervista una cosa molto interessante che qui in Italia i giornali satirici sono come lo yogurt cioè che quando nascono hanno già la data di scadenza ma il male ha fatto purtroppo quella fine che sappiamo anche Cuore l'unico cartaceo che resiste è il vernacoliere io scrivo anche su vernacoliere forse resiste per questo no il vernacoliere è un giornale che però rispetto agli altri due ha diciamo cavalcato tutte le epoche storiche è molto particolare non so se l'avete mai letto lui risente molto della livornesità mentre gli altri due giornali avevano un rapporto molto stretto col periodo storico lui ha un rapporto viscerale con il territorio molti pezzi sono in vernacolo livornese esatto sono in vernacolo livornese alcuni pezzi sono in italiano e è un giornale che parla anche molto di sesso una copertina su due parla di di topa parla di di cazzo culo adesso ne vediamo qualcuna perché non ci piace dire le parolacce e allora vediamo subito qualcosina tra l'altro qui vi racconto prima l'aneddoto perché questa cosa è molto carina praticamente era anni 80 comunque in pratica c'era una tassa che era ancora quella prima dell'IMU Sokov si chiamava una cosa del genere e il Venacoli riuscì con questa copertina in cui parlava di Sogot cioè la tassa per la tassa non so comunale sulla topa insomma era una tassa sulla topa al che Mario Cardinale il direttore venne querelato appunto venne citato in giudizio credo per oltraggio al pudore qualcosa del genere fu assolto e quindi uscì con questa locandina trionfante la topa non è reato viva la topa a basso Pisa no perché sapete che c'è questo odio esatto con con Pisa e diciamo questo come vi dicevo il fattore sessuale è molto presente nel Venacoliere per esempio qui Tangentopo in 92 si spartivano anche i peli della topa no è carino vedere come sia cuore e sia il Venacoliere trattino lo stesso argomento in maniera un pochino diversa Moana si fa sola anche questa no carino operato Berlusconi gli hanno tolto la topa dalla testa questa diciamo era più in periodo rubi ne vediamo giusto un'altra sapete no il Banca Etruria le polemiche lì il Venacoliere uscì con questa l'UNESCO il culo della boschi patrimonio dell'umanità ora non la possono più toccare diciamo come diceva inizialmente Andrea sono notizie comunque false inventate che però hanno una visione della realtà cioè trasmettono un punto di vista fanno ridere però lanciano anche un messaggio e qui infatti Cardinali che il direttore dice che lui spara cazzate appunto non per dare appunto fiato alla bocca ma perché comunque lo fa con cognizione di casa lui scrive anche degli editoriali in apertura di giornale ci sono i suoi editoriali che sono anche seri poi sono i pezzi divertenti però diciamo molto spesso che cos'è questo tipo di giornale questo tipo di satira è uno smontare la realtà per poi rimontarla riderne ma anche rifletterne questo è sempre mio perché doveva venire il nostro Stefano Pisani che non c'è quindi siamo divisi le sue spoglie allora parliamo della differenza tra bufale e satira non so se vi ricordate un po' di tempo fa Facebook introdusse in maniera sperimentale diciamo in America la possibilità di mettere un tag al post il tag satira se una notizia era falsa tu gli potevi mettere il tag satira e quindi la segnalavi come tale e quindi gli utenti magari non erano tratti in inganno non l'avrebbero presa come vera questa cosa adesso proprio dal punto di vista satirico è sbagliatissima perché non è detto che una bufala che una notizia falsa sia automaticamente satira questa ve la faccio vedere dopo vi dico solamente qual è l'obiettivo di una bufala perché si scrive una bufala una bufala si scrive per ingannare le persone e per cercare la massima diffusione cioè io scrivo una notizia falsa con un linguaggio giornalistico verosimile in modo tale con l'obiettivo di ingannare le persone e con l'obiettivo della massima diffusione ebola lampedusa bufala su facebook chiederemo 10 milioni di danni qui eravamo in piena emergenza ebola e un buon tempone diffuse su facebook questa notizia che appunto c'erano tre casi di ebola lampedusa e che si temeva un'epidemia globale era una notizia falsa ma dal profilo facebook di questo utente fece tipo 26 mila condivisioni nel giro di pochissimo e creando anche un certo allarmismo però diciamo messa così cioè è una cosa che tra virgolette è verosimile ovviamente non c'è una base di verità e quindi è stata diffusa in maniera virale a questo proposito oggi non so se ci avete fatto caso si tende molto spesso a credere a tutto quello che si vede su internet anche a semplici meme come questo prima c'era lo diceva la televisione adesso c'è lo dice internet molto spesso anche noi è capitato dopo Vittorio vi farò vedere qualche esempio che gente per quanto paradossali possano essere le nostre notizie che gente abbia creduto a quello che scrivevamo noi questo è un esempio diciamo di bufala questo è Luttazzi con il suo dito medio che spunta dalle parti nobili e quindi la satira si differenzia dalla bufala perché ha un obiettivo diverso si dice che la satira castiga tritendo mores che vuol dire vuol dire che la satira castiga i costumi usando la risata come un mezzo cioè la risata non è il fine la risata è il mezzo per passare un punto di vista un ragionamento per far fare appunto una riflessione su i temi della satira che sono la politica il sesso la religione e la morte abbiamo fatto qualche esempio anche noi sull'ebola ebola contagia di 700.000 ipocondriaci perché questa non è una bufala lo capirete da voi perché gioca sul fatto della psicosi dell'ebola diciamo prende in giro il fatto che la gente abbia paura eccessivamente di un fenomeno che comunque era stato circoscritto e per il quale comunque in Italia c'erano dei rischi prossimi allo zero questa è una cosa che ci siamo divertiti a scrivere ci avete fatto caso che i papi muoiono sul lavoro tutti troppi papi morti sul lavoro la procura per un'inchiesta qui ci siamo divertiti un pochino a fare satira per culare il mondo della chiesa perché ovviamente i papi cessano il loro mandato con la morte sono morti bianche comunque non ridete tranne uno che vuole rimanere anonimo ci avevano detto e qui va bene c'è l'articolo di Eddie che non vi leggo perché andiamo velocemente comunque c'era questo misterioso datore di lavoro dei papi che si faceva chiamare il signore e c'era un papa che voleva rimanere anonimo e che noi avremmo chiamato papa Alberto per non appunto diffondere la sua identità che ogni giorno si affacciava alle persone si affacciava al balcone parlava alle persone accarezzava i bambini però non sapeva mai se appunto c'era la possibilità di arrivare vivo a fine giornata perché appunto c'era questo rischio e quando diceva alle persone pregate per me tutti lo interpretavano come un gesto di umiltà non sapevano che in realtà lui si stava cagando addosso come c'era scritto appunto nell'articolo Renzi si aggiudica il premio miglior Berlusconi dell'anno qui l'abbiamo vista un pochino prima esatto e la cosa chiudiamo questa parte con un piccolo aneddoto che a un certo punto su Twitter ci segnalano questa cosa che sbucò un unico preferito sul profilo Twitter di Matteo Renzi ed era il nostro tweet una cosa il nostro tweet in cui appunto lanciavamo questa notizia di prima Renzi si aggiudica il premio miglior Berlusconi dell'anno una cosa sensazionale tra l'altro ci facciamo un post su Facebook e dopo qualche minuto fu tolto però una soddisfazione o un'onta insieme allo staff di Twitter forse erano quelli che poi sono andati da Gasparri diciamo qui l'idea che magari il social media manager di Renzi non abbia fatto lo switch col suo profilo personale e abbia messo tra i preferiti il nostro tweet noi non sappiamo se prenderlo come un complimento o un'onta o qualcosa del genere una minaccia di morte l'abbiamo riportato e adesso Vittorio giusto vi parlerà dei boccaloni nostrani cioè delle testate e dei personaggi che abbiamo trollato involontariamente e che hanno chieduto alle nostre notizie benissimo allora vai pure vado pure allora questa è stata la notizia come ha accennato prima Alfonso del nostro del nostro carissimo amico Andrea Bonechi praticamente questa notizia fu la prima vera notizia di Lercio che ha fatto il giro del web ai tempi avevamo circa mille fan sulla pagina facebook la sera ce ne ritrovamo 20.000 tipo cosa pazzesca chi ha dato risalto a questa notizia è stata Repubblica XL Repubblica XL ha preso Bervera e ha commentato e ha commentato ok ci siamo cose che capitano il sistema operativo di Radio Maria è andato in tilt trasmettendo band certamente poco amate degli ascoltatori come Megadeth Cannibal Cops e System of a Down gli artisti erano presenti sulla chiavetta USB di un dipendente ora è caccia il nome del brutallaro dell'emittente radiofonica votata a Radio Maria il fatto che Repubblica XL non ha questa è la prova che Repubblica XL non ha neanche aperto non ha neanche aperto l'articolo perché il nome del brutallaro era presente ed era Pio Settimino o forse si sono vergognati di scriverlo perché poi veniva il minimo dubbio che non fosse vero esatto e questo addirittura il direttore di Radio Maria fu chiamato da un emittente svizzera per chiedere e poi smentì Padre Livio Padre Livio Padre Livio la prossima notizia questo pure ha fatto ha fatto impazzire ha fatto impazzire altervista questa questa purtroppo ci ha fatto scoprire davvero il grado perché mentre l'altra comunque poteva avere un tono scherzoso questa invece ha fatto venire fuori proprio la nobiltà il male di internet anche perché con questa notizia siamo riusciti a prendere sia i razzisti sia gli animalisti i vegani che stanno abbiamo preso un po' tutto sia i fascisti i fascisti esatto e questi sono una una percentuale omeopatica dei commenti che praticamente sono comparsi sotto a sotto considerate che ancora oggi vante tipo 1800 commenti l'articolo ha girato davvero ovunque è stato anche ripreso da qualche notiziario da qualche catena umana di questi siti pessimi vi leggo giusto due o tre commenti c'è Pierluigi che dice ora basta ma chi si crede di essere questa specie di trovolidita io non lo dico per il colore della sua pelle ma per l'annerimento della sua materia grigia ricordatevi che non lo dice segnatevela sta cosa troppo distanti i due tipi di cultura quella italiana e quella africana non è adatta al ruolo che copre la ministra congolese chi l'ha messa lì è meno adatto di lei non vedete in che modo ragiona l'unico interesse che ha è quello di elevare i negri lo facesse a casa sua giustamente certi comportamenti fanno diventare razzista a chi non lo è mai stato e volevamo chiedere questa è la continuazione volevamo approfittare per scusarci con Pierluigi che l'abbiamo fatto diventare razzista il 7 ottobre 2013 è colpa nostra non sappiamo se ora si è ripreso ed è tornato esatto 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 poi io mi riferisco alla Chienghi e Shock sull'articolo di ammazzare gli animali sia cani che gatti degli italiani che si rimangi le parole perché i nostri animali mangiano sia i croccandini ma dagli scarti dei macelli e no da animali vivi per sfamare i nostri cani quindi questa è andata è l'animalista probabilmente ha telefonato al servizio verde della Frischis per sapere cosa stesse succedendo e mentre salto direttamente all'ultimo commento che è invece quello che ci ha fatto più piacere di tutti di un Luca Bernardini poi anche se è cancellato il nome lo diciamo perché è un docente universitario ero molto felice di dirlo l'ercio è la cartina torna sole inutilmente sognata da Darwin i commenti alle sue notizie permettono di riconoscere con garante facilità gli homo sapiens e gli anelli di congiunzione allora questo esempio si puoi andare direttamente all'altro poi magari torni sì allora a un certo punto l'ercio è stato noi pensavamo che dopo che Repubblica XL avesse fatto il colpaccio Repubblica quello adulto diciamo quello serio poteva stare un po' più attento invece no praticamente ha preso allora era successo che in Egitto un povero cristiano un povero Cristo è stato è stato decapitato dall'Isis con indosso una maglia del Napoli secondo alcuni lettori della probabilmente della Repubblica questo questo qui era un messaggio per dire che il prossimo attacco dell'Isis probabilmente il prossimo obiettivo era Napoli in quei giorni era girato un video in cui si vedeva il Colosseo e quindi si pensava diciamo che volessero minacciare l'Italia esatto allora Repubblica per calmare i lettori ha cercato una fonte autorevole autorevole e ha scritto questo non si tratta di un ulteriore messaggio intimidatorio rediretto al nostro paese solo un caso dunque che la vittima indossasse la maglia del Napoli particolare probabilmente dovuto al fatto che in quelle zone lavorano diverse associazioni umanitarie tra cui la Ollus dribbla la povertà che distribuiscono le divise delle squadre più famose del mondo ovviamente la Ollus non esisteva ce la siamo inventata noi e questo articolo parlava della sovrappopolazione ispirato poi dalla modesta proposta di Swift e parlava di sovrappopolazione un modo diverso di combattere il problema della sovrappopolazione ovviamente Repubblica non ha fatto una mossa ha solo rimosso la fonte di Lercio ma fortunatamente degli internauti veramente attenti sono riusciti a segnalarcelo e li ringraziamo infinitamente dopo questa notizia siamo finiti sul blog e credo di essere l'unico sono finito sul blog di Grillo senza ripercussioni successive e Grillo ovviamente ha lanciato l'hashtag io non leggo Repubblica perché usa Lercio come fonte ok e noi a questo punto abbiamo dovuto rispondere perché non ci andava di essere strumentalizzati e abbiamo risposto a modo al nostro amico Beppe Grillo ha deciso di attaccare frontalmente Repubblica creando l'hashtag io non leggo Repubblica in questa operazione è tirato in mezzo anche noi di Lercio volevamo dire a Beppe che ci divertiamo di più quando siamo noi a farlo parlare di Lercio come in questi casi abbiamo citato le nostre notizie di Lercio che lo prendevano in giro oppure quando l'aggregatore della casaleggia associati Zezè prende per vere le nostre notizie quindi Grillo si è bullato si è bullato e questo invece su Zezè è comparso questo si sveglia dal coma dopo vent'anni e si stacca la spina loro abbiate grappa il paese no giusto è un diciassettenne in coma da vent'anni e è finito in quella situazione è finito in quella situazione a causa di una fatality da sub-zero quindi tutte informazioni abbastanza un attentissimo fact-checking non è riuscito a capire che era fatto poi si chiamava mo basta si chiamava sto sfasciando il microfono ma non gli ho chiesto neanche il nome allora ce l'ho ce l'ho in bocca te lo porti a casa poi sì faremo amicizia in serata davanti a un bicchiere di vino limona duro esatto questo è stato un altro articolo che ha creato sì è andato molto bene sull'ercio ma è andato ancora meglio sulla baghaca di Cracco tanto da tanto da fare ingegnare Cracco praticamente Cracco ha dovuto mettere un annuncio sui suoi profili social per dire che era stato vittima di uno che non era vero assolutamente niente e non è che era stato un simpaticissimo Cracco nel dirlo ovviamente l'articolo era Cracco il segreto del mio agnello lo condisco da vivo parlava della partecipazione di Cracco a un reality e questo è l'articolo vi leggo giusto due righe per farvi capire qual era la portata Carlo Cracco uno dei più famosi chef italiani è al centro di un'infocata polemica dopo che durante un programma inglese è rilevato il segreto di uno dei piatti più difficili da replicare che lo ha reso famoso nel mondo il celebre agnello in lacrima d'agnello una delle specialità dei menù pasquali dei suoi ristoranti praticamente il bello di questo agnello in lacrima d'agnello era che abbiamo descritto il procedimento che ha terrorizzato di fatto tutti gli animalisti del mondo ed era questo Cracco ha deciso di svelare il trucco del suo storico piatto il segreto ha raccontato è insaporirlo da vivo preleviamo il latte materno lo scaldiamo alla braccia lo insaporiamo con olio prezzemolo sale aglio coriandolo noce mosqueda rosmarino in modo da farlo abituare a quei sapori sin dalla prima poppata in questa maniera la carne la carne dell'agnellino acquisisse tutte le sfumature i sapori delle spezie i profumi della braccia in maniera più naturale quindi non abbiamo più la semplice materia prima assemblata a degli ingredienti ma una materia prima che nasce con un'idea e soprattutto un agnello che viene svezzato con la mentalità che lo rende già propenso a diventare un piatto vincente lui vuole diventare quel piatto questo fa la differenza e quindi dopo che l'agnello voleva diventare un piatto di cracco andate a cercarlo su facebook andate a cercare i commenti abbiamo risposto a modo nostro a cracco gentile chef ci dispiace molto aver spoilerato il suo menù pasquale ma il diritto di cronaca viene prima di tutto no a parte gli scherzi è solo una delle nostre fake news d'altronde su di lei ne cilano molte per esempio c'è quella che dice che lei farebbe la pubblicità le patatine in busta e c'è qualcuno che ci crede la scelta è caduta su di lei perché barbiere è troppo fighetto per farci un articolo e bastiani c'è lo sguardo di uno che condirebbe davvero gli agnelli quindi andiamo tutti a cena di Cannavacciuolo e poi è intervenuto Cannavacciuolo che ha detto cracco non te lo prendere se quelli di Lerce lo avessero fatto con me avrei risposto con una bacca sulla spalla Cannavacciuolo non sa cosa gli sta per capitare però e visto che siamo in tema di agnelli vegani vegani volevo chiamare un nostro amico che ne sa molto più di tutti quanti a livello di cucina prego il nostro amico di Lerce Chef Rubio ciao a tutti ci siamo conosciuti qua fuori non è vero che siamo amici scusate il ritardo ma ho avuto un alterco con un che era vegetariano mi ha provato a frustare mi ha dato una frustata con sedano dentro in occhio e sono stato fino ad adesso a farci il pinzimonio per farlo guarire vabbè a posto fatto ciao a tutti e bello vedervi numerosi avete messo l'immagine vabbè parliamone già che ci siamo nasce come un omaggio alla vita agre-este e viene frainteso a più e pari poi erano tre solamente che poi l'hanno amplificato come tre queste tre persone che insomma hanno criticato questa no veramente erano quattro i commenti quello più scurrile l'hanno bypassato se volete poi ve lo ricordo oppure c'è un gelato che può servire a qualcuno che si ricorda come gli ho risposto un'analisi tecnica su come si sorregge un agnello sulle spalle e niente sono stato contento di essere stato contattato dai ragazzi di Vercio insomma sancito la firma questa mia risposta a tu madre alla alla provocazione mi si diceva se la panza fosse photoshoppata insomma a Roma si dice così tu madre è photoshoppata e mi ha chiamato subito Michelotto e mi ha detto sei dei nostri insomma basta basta così abbiamo capito che c'era del lerco dentro Rubio quindi ragazzi non risparmiate i vaffanculi sui social perché potrebbero farvi entrare nella grande famiglia dei lerci niente quindi non capisco ancora il motivo del mio avvento raccontaci raccontaci l'esperienza parallela a quella di Cracco mi starei facendo fare allora com'è andata con gli agnelli è andata no è andata benissimo abbiamo avuto una breve relazione tempo di averla sulle spalle e poi dopo ci siamo dovuti separare adesso sta facendo formaggi e me li affino ma ti hai chiesto il nome o sei stato direttore no è stato un incontro così saltuario dentro una stalla insomma non si chiedono non ci siamo formalizzati tra l'altro possiamo farlo entrare qui l'agnello però devo devo dire che baciava bene fuori c'è Mina con l'agnello Mina Mina deve entrare Mina ancora deve entrare però aspettate un'altra e niente mi hanno messo in mezzo quindi non so di solito cerco di uscire da queste figuracce dando il gelato alle persone che mi trovo di fronte per un intervento se non ci sono domande possiamo passare al prossimo ospite ah tra l'altro diciamo diciamo questa cosa non so se la vuole annunciare Andrea vai 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 annuncia la tua Andrea allora che appunto leggendo questi commenti di Rubio insomma abbiamo capito che c'era del lercio dentro di lui e abbiamo deciso di sfidarlo a braccio di ferro e visto che ha perso ignominiosamente allora per punizione l'abbiamo costretto sì ma tutti e tre insieme non vale ho detto sì facciamo a gara ma uno alla volta niente beh perché lui aveva l'agnello sulla spalla quindi l'abbiamo costretto a commentare tutte le settimane una nostra notizia quindi insomma abbiamo introdotto una nuova rubrica in lercio che parte da da questi giorni ora c'è già sul sito il primo commento di Chef Rubio e vi invitiamo a andarlo a vedere quando andrà online e soprattutto qual è l'avete messo allora oggi è già sul sito è quello dei sassariani poi dopo lo scoprirai anche te no veramente è l'unica che mi hanno accettato io non ho date 50 ma ho detto no ripassa quindi la notte tipo togli la cera metti la cera niente l'unica buona ce la bruciamo e devo ripensarne di altre perfetto puoi dare al pubblico la ricetta sassariana però solo ah no volevo anche approfittare prima abbiamo parlato di come fare delle ricette per cucinare i bambini quindi si poteva chiedere allo chef anche se c'è qualche buona ricetta per cucinare i bambini no però se me lo dicevate mi preparavo comunque va bene allora per il prossimo la prossima volta sentirete quelli da latte però quelli da latte che ancora non hanno brugato c'è qualche domanda per lo chef nessuno impagliati peggio di me perfetto non ce ne sono due tre che countdown puoi aumentare non ha senso ce n'è uno in fondo il bagno a sinistra grazie perfetto ti salvi sempre con la battuta del bagno seguite i commenti dello chef Rubio sull'ercio se me li pubblicano siamo severissimi o in alternativa le foto con gli agneri no ma poi è bellissimo scusate posso rivelare qualche posso puoi no che io tutto carino gli mando i messaggi gli inbox su facebook allora ce n'ho queste allora ti ho spiegato noi non facciamo così questa non va bene qua te fanno causa qua ce fanno causa e quindi sto ancora li mando sono un po' troppo ruvido devo ammorbidirmi e diventare un po' più arguto come fanno loro che hanno evitato denunce su denunce per ora per ora basta ok facciamo un applauso ecco mo lei vado a dar cazzo si vado ma posso rimanere o me ne vado ma stai stai no non ho spiegato nulla allora me ne vado che mi hanno detto che sei liberato l'agnello vado un attimo a vedere sta bene bello aspetta pensavo che era il momento dell'ostia allora Mina deve aspettare ancora un attimo allora ora vogliamo parlare del rapporto di Lercio invece con l'Accademia della Crusca e approfittiamo del fatto che abbiamo qui la Twitter manager dell'Accademia della Crusca Mina Mina vera che no allora noi abbiamo sempre avuto abbiamo sempre fatto battute fin dall'inizio sull'Accademia della Crusca dovute al fatto che giustamente abbiamo identificato nell'Accademia della Crusca diciamo la fonte più autorevole no di per la lingua italiana per quanto riguarda la norma della lingua italiana e quindi qualunque battuta volevamo fare sul linguaggio più o meno tiravamo dentro l'Accademia della Crusca e la battuta che più o meno è stata più celebre è stata questa l'Accademia della Crusca si arrende scrivete qual è con l'apostrofo e andatevene a fanculo allora visto che questa ha avuto molto successo è stata rituitatissima vorremmo far raccontare alla Twitter manager dell'Accademia della Crusca come ha vissuto l'arrivo di questa battuta e insomma e come si è conclusa poi la vicenda perché giustamente il problema è stato che molti poi hanno chiesto conferma credendo che fosse vera capisco la delusione dopo Rubio scusate tornerò tatuata fra un po' allora no in realtà gestire un profilo come il Twitter della Crusca è sempre un problema perché in questo caso la questione era la Crusca avrà riconosciuto che l'ERC è un sito satirico e quindi è tutto un grande scusate il francesismo per culo e quindi quella ho cercato di evitare di rispondere finché non è successo quello che temevo cioè alcune persone e molte persone hanno veramente pensato che la Crusca avesse fatto un comunicato stampa in cui diceva scrivete qual è quell'apostrofe natemi a fanculo hanno chiesto conferma e quindi varie persone hanno menzionato la Crusca nei loro commenti dicendo confermate come gli rispondo alla fine ho scelto la strada più breve e ho risposto no rimandando però alla scheda in cui si spiega perché no ciò nonostante questo è il tweet peperonata come lo chiamo io non so se si ripresenta a intervalli regolari e in realtà in realtà ancora adesso succede che in giro per il web qualcuno si lamenta di quanto sia l'assista la Crusca perché ha fatto passare il quale è con l'apostrofo no guarda ti giuro ancora adesso quanti anni fa è? tre almeno? sì è stato nel 2013 allora l'amicizia con l'ercio nasce perché se non puoi combattere il nemico diventa c'è amico no? e quindi è nata questa allora poi perché non si creda che poi i nostri lettori non sono acculturati vorrei illustrarvi il dibattito che è seguito a questo articolo perché una volta appurato che che il quale è insomma si può scrivere con l'apostrofo secondo la Crusca allora ci siamo soffermati sull'affanculo allora la seconda parte non andate in affanculo e è iniziato un dibattito di elevatissimo valore culturale a leggiamo Rodolfo si scrive affanculo o affan apostrofo un culo credo che sia corretto con l'apostrofo però Francesco dice insinua il dubbio forse affan apostrofo culo allora no questo è del Rodolfo del conservatorio della musica di Santa Cecilia quindi ente prestigioso no affanculo con l'apostrofo prima della n di sicuro no perché se scrivi che stai affa devi scriverlo così con l'apostrofo dopo la quindi affa quindi c'ha l'apostrofo dopo la e anziché in culo in culo devi dire in culo con l'apostrofo prima della n quindi è affanculo con l'apostrofo dopo la però forse ci vogliono due apostrofi uno per fa e uno per un culo quindi affanculo con il doppio apostrofo allora però Davide suggerisce a questo punto secondo me allora sono due apostrofi all'americana tipo rock and roll no quindi affanculo prima e dopo la n però Nino alla fine taglia la testa al toro io continuerò a scriverlo senza apostrofo e va bene poi andando avanti nel tempo appunto siamo diventati amici la cosa si è consolidata e quando si è avvicinato il fan numero 200.000 della pagina facebook dell'Accademia della Crusca gestito da dall'amica Stefania Iannizzotto che non è qui con noi però insomma che non sono io che non sei abbiamo deciso di inventarci una nostra notizia e abbiamo detto che l'Accademia della Crusca aveva stabilito che il fan numero 200.000 avrebbe potuto inventare una regola grammaticale a sua scelta e tra l'altro poi con il cerchio che si chiude diciamo poi è arrivato questo fan numero 200.000 e ha chiesto di poter avere proprio il qual è con l'apostrofo però vabbè è stato bocciato poi la cosa è stata ripresa un po' anche da Rai News eccetera eccetera per arrivare infine al Petaloso Gate dove noi abbiamo fatto questa battuta? Siamo poi ai giorni nostri no? Se vi ricordate in quei giorni Bertolaso se ne era uscito paragonando Roma a una città terremotata quindi insomma ha fatto questa mezza gaffa e quindi noi l'Accademia della Cusca approva l'aggettivo Bertolaso per indicare le cose fatte a cazzo e quindi ha avuto ovviamente moltissimo successo perché ha sfruttato il trending topic di Petaloso di cui poi forse Vera ci vorrà parlare ho qui 90 slide per spiegarvi come è andata veramente e anche l'accoppiata con Bertolaso infatti se andiamo avanti vediamo che per quanto riguarda Petaloso è diventato un fenomeno su Twitter con oltre 56.000 messaggi e tra i tweet più retweetati c'è proprio il nostro con 615 retweet ora credo sia arrivato a quasi 800 e quindi niente siamo stati insieme poi all'Accademia della Crusca che ha fatto il tweet diciamo ufficiale poi accanto a loro ci siamo noi con il tweet di Lerch insomma quindi si conferma la joint venture poi non lo so se Vera vuole aggiungere qualcosa sul Petaloso Gate che la appassiona 72 ore senza dormire questo è stato il Petaloso Gate no l'unica cosa che vorrei dire è state tranquilli la Crusca non inserisce parole nel vocabolario perché non fa vocabolari dal 1923 quindi è stata tutta la distorsione della notizia è una delle 8527 risposte di consulenza che noi abbiamo dato nel corso degli anni è una risposta è stata un bambino quindi non c'è nulla di strano dietro e noi siamo i primi a essere rimasti stupiti del casino che è successo perché appunto non era una cosa organizzata e diciamo che il mistero della viralità rimane tale abbiamo beneficiato anche noi ovviamente dell'assist di Lerch anche se non ho potuto ritwittare dal profilo ufficiale il loro tweet per ovvi motivi ma abbiamo avuto degli endorsement molto importanti quello di cui sono in assoluto più orgogliosa oltre a qualche agenzia di pompe funebri che ha reclamizzato i loro funerali molto petalosi abbiamo avuto un tweet con Rocco Siffredi che ha promesso la categoria petaloso su Pornhub questo vuol dire essere arrivati grazie mi aspetto fuori grazie era la crusca mi piace perché le nostre presentazioni partono sempre un pochino serie così poi vanno a finire in cialtronam ci piace adesso prima Vittorio vi ha fatto vedere un pochino le testate italiane che hanno creduto a delle notizie nostre adesso facciamo una piccola parentesi mondiale perché sono cose che capitano anche all'estero e poi facciamo un giochino in cui vi invitiamo poi lo vediamo con calma sarete protagonisti anche voi boccalonini nel mondo dovete sapere che il tipo di satira che facciamo noi viene fatta anche in altri paesi del mondo c'è negli Stati Uniti c'è il Dionion che è il lercio statunitense il Delimash in Inghilterra in Francia c'è un giornale che si chiama Legorafie che è l'anagramma del Figaro è il lercio francese qui vediamo qualche esempio ci fu il Dionion che lanciò questa notizia il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un era stato eletto secondo Dionion l'uomo più sexy del pianeta se non sbaglio era nel 2012 che succede? succede che questa notizia inizia a circolare un pochino fino a quando il quotidiano del popolo che è l'organo ufficiale del partito comunista cinese rilancia la notizia cioè l'organo ufficiale del partito comunista cinese credeva effettivamente che il clitoide della Corea del Nord potesse essere considerato l'uomo più sexy del pianeta e in effetti guardandolo così forse non solo ma si chiedono l'anno scorso chi era più bello impossibile la domanda era quella chi era quello più sexy dell'anno prima vabbè saltiamo un attimo questa qui vediamo un pochino quelle più carine questa è clamorosa cioè Francia Lanza esce con questa notizia Francia l'89% degli uomini crede che il clitoide sia un modello di Toyota perché questa cosa perché fraintende confonde il termine clitoris con yaris c'era questa questa cosa e Lanza pubblica questa notizia così in scioltezza ma chi l'aveva scritta la notizia qual è la fonte primaria è l'agorafico come vi dicevo prima è l'ercio francese cioè Lanza è andata a prendere una notizia di un giornale satirico francese e ci ha fatto questa notizia questa ha creato un caso assurdo press tv lanciò questa notizia questa è una tv in inglese iraniana che trasmette appunto in inglese e lanciò questa notizia abbastanza clamorosa Obama toglie l'amicizia a Netanyahu su Facebook era una cosa che comunque lì negli ambiti fu molto dibattuta si stava per creare quasi un caso diplomatico l'Iran convocò la difesa praticamente esatto anche poi mobilità di servizi segresti cose del genere ma cosa era successo che la notizia era stata data dall'Israeli Daily che è appunto un giornale satirico quindi come vedete queste cose succedono a noi ma molto spesso capitano anche negli altri paesi del mondo prima di fare il giochino vi ricordo anche questa che era molto carina Dionio sempre lanciò questa notizia Sean Penn vuole sapere chi è quello stronzo che ha preso l'indirizzo email champagne chiocciolgmail.com e questa notizia fu rilanciata da una televisione danese quindi anche i media stranieri non sono del tutto immuni agli errori adesso facciamo un giochino che vi presenta il buon Andrea visto che abbiamo riso degli altri vediamo anche se siamo tuoi allora infatti siccome come abbiamo detto prima noi da quando facciamo queste notizie false c'è un po' un gioco di superamento tra la nostra fantasia e la realtà ci siamo accorti sia che ogni tanto escono dei titoli giornali che sembrano titoli di lercio infatti c'è anche un'altra pagina ma non è lercio che proprio riporta questi titoli ci siamo accorti allo stesso tempo in alcuni casi ci hanno segnalato che dei titoli che facevamo per quanto assurdi dopo un po' si avveravano cioè ci riportavano dei titoli accaduti veramente quindi relativi a fatti accaduti veramente che erano uguali a cose che ci eravamo inventate noi anni prima quindi effettivamente questo ha stupito noi per primi quindi visto che c'è questo inseguimento tra la realtà tra le nostre notizie e le notizie chiamiamole vere vogliamo fare un giochino con voi per capire se riuscite a comprendere qual è questo confine labile tra l'ercio e la realtà questo giochino quindi si chiama vero o l'ercio consiste nel fatto che noi leggeremo qualche notizia e voi ci dovrete dire se secondo voi alzata di mano prendiamo un volontario facciamo così di solito noi prendiamo un volontario e il volontario sarà il portavoce del pubblico va bene ok e ci dirà se è vero o l'ercio ci sono volontari chiamiamo noi chiamiamo noi chiamiamo un ragazzo tu con gli occhiali tu che mi stai ignorando l'unico che non glielo freghiamo niente l'hai preso sei svegliato ora e soprattutto la regola di l'ercio è chiamare una donna vabbè chiamiamo Giulia vieni ormai è fatta devi venire tu devi venire tu allora però devi diventare una donna facciamo un applauso al nostro volontario Mari lì c'è posto possiamo farlo mettere lì magari Mari lì c'è il microfono ok allora noi ti leggiamo qualche notizia e tu appunto ci dirai se è vero l'ercio ovviamente ti aiuta il pubblico il pubblico dice se secondo lui è vero l'ercio e tu ci dirai la tua vai Andrea allora Napoli tenta a stragi in una scuola elementare ma gli rubano le armi chiede al pubblico chiede al pubblico parlo qua parlo qua cosa dice il pubblico secondo me è falsa falsa bravissimo bravo curiositi disegna per caso un pene su Marte imbarazza della NASA che secondo me questo può essere vediamo esatto la repubblica indemoniato sputa viti e bulloni gli amici lo usano come ferramenta secondo me è falsa tre su tre attenzione molto bravo molto bravo bene allora tenta il suicidio i medici lo salvano ma poi gli chiedono di pagare il ticket pubblico spaccato vediamo che dice il nostro portavoce non mi sembrava spaccato il pubblico sì secondo me è vera era vera cercavo di trarlo in inganno inutilmente la donna che convive con un cetriolo è il compagno perfetto quante di voi convivono con un cetriolo qui tra il pubblico ci sono mani alzate lì ci sono mani alzate pubblico non siamo gelosi dei vostri cetrioli questa qua è difficile potremmo farle alzare le mani che dice che è vero ma tu devi rispondere devo prendere le tue sapete allora alzate i cetrioli secondo me è vero stavi forte andavi forte allora cavallo imbizzarrito ruba la bici a tre bimbi rom anche questa forse ci può stare è vero libero libero in uno slancio di dignità giornalistica libero Ungheria tra paranti questa l'ho tolta no no mando avanti allora nano si finge pupazzo tipo a buonatale svaligia appartamento no secondo me è falsa però attenzione che il fatto che siano di l'ercio non significa che poi prima o poi non si avverino potrebbe ancora allora bimba chiede torta di compleanno con little pony ma si ritrova little Tony ma se non è vera si avvera questa però ormai si è visto era vera era vera pensate il dramma di questa bambina vi vogliamo qui adesso qui è ora allora è little Tony che è arrivata quello con i mini pony poi allora innocente partita twister finisce in gangbang no secondo me è falsa qui vi abbiamo un po' fregato perché è uno di quei casi che vi dicevamo prima in cui abbiamo fatto una notizia a noi e poi si è avverata cioè è vero anche questo cioè non si sa tra l'ercio e l'ego noi siamo convinti che le copiano dopo un po' che le leggono le elaborano quindi la foto è la stessa quindi il 4 aprile 2015 noi abbiamo fatto uscire la notizia innocente partita twister finisce in gangbang e poi leggo diciamo che non ci stava a rimanere indietro qualche giorno dopo il party hot della mamma fa spogliare tutti poi fa sesso col fidanzato e la figlia sedicenne e poi specificava che il party hot è basato sul gioco twister quindi proprio ci tenevano a dire che la notizia era quella quindi questo è uno dei casi abbiamo aperto una rubrica che si chiama te l'avevo l'ercio quando succedono quando si verificano questi casi e ad oggi se non sbaglio abbiamo siamo a una ventina di casi che si sono verificati adesso abbiamo portato qualche battuta per voi ringraziamo ok grazie esatto grazie al nostro portavoce che è stato è stato abbastanza bravo bravissimo è stato bravissimo è stato abbastanza bravo ora vabbè fate gli auguri perché dovrà diventare una donna ma per il resto se l'ha gravata bene allora qui abbiamo portato delle battute dovevamo essere in quattro ognuno di noi ha portato due battute ve le leggiamo e poi vi lasciamo dopo le domande se ci saranno vi lasciamo abbiamo portato un tg un tg nostro da farvi vedere questo è di Andrea ragazza va in bagno senza amiche divorata dalla tazza sappiamo che non si può andare in bagno da sole Renzi parla a Strasburgo in inglese e per sbaglio dichiara guerra all'Ucraina poi c'è la mia sapete che Studi Aperto è una testata autorevole giornalista di Studi Aperto non sa di essere in onda e dà una notizia di economia battute che è stata premiata come al mia macchia nera italiana award 2014 è stata votata come miglior battuta del secolo del secolo a Roma abbiamo il problema della metro Roma aspetto la metro B e invece arriva Godot era un periodo in cui c'erano questi disservizi ricerca rivela lasciarsi fissare le tette fa dimagrire quindi le ragazze in prima fila saranno felicissime record di visioni per il selfie di Dio con Allah ingegnere alza lo sguardo e scopre il giacimento di energia solare sono questi gli ingegneri Ratzinger telefona a Marino t'ha fregato pure a te quel paraculo allora ora con queste vi salutiamo se ci sono domande fatevi avanti che insomma saremo ben lieti di rispondere oppure no e poi dopo per salutarvi definitivamente manderemo un TG con il meglio diciamo delle nostre notizie degli ultimi anni lette da Serena Dandini nella trasmissione che facevamo con lei stai Serena quindi allora domande tra il pubblico abbiamo qui un microfono vediamo un po' se qualcuno ci vuole chiedere qualcosa dai domande anche una ci cagano però eh vabbè ci facciamo siamo delusissimi una domanda grazie una domanda buonasera 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 mi hanno mai fatto causa allora posso io fortunatamente no però diciamo che una volta un ministero che ora è diventato è stato declassato al dipartimento ci hanno mandato una lettera contando di un timbro ministeriale per rimuovere una notizia sull'ebola la notizia era compra un tris di fantasmini da un V compra e compra l'ebola purtroppo ci hanno chiamato la segnalazione è partita da Lampedusa eccetera era ambientata a Lampedusa e poi ci hanno comunicato di togliere noi giustamente l'abbiamo tolta perché non volevamo creare allarme sociale poi leggendo l'articolo non volevamo parlare di Lampedusa no c'è anche da dire che comunque per essere un sito di stati abbiamo dovuto dare anche troppe spiegazioni non so c'è uno scritto dal Palio di Siena c'ha scritto il sindaco di un paese leghista perché abbiamo fatto un articolo in cui in questo paese leghista venivano tolti numeri arabi dalle scuole i numeri arabi sono quelli che utilizziamo noi tutti i giorni e ci schisse piccato questo sindaco abbiamo beccato il paese con il sindaco della Lega noi abbiamo preso un paese con un nome a caso che era un po' buco non mi ricordo sì sì esatto e poi abbiamo avuto qualche minaccina di morte per gli articoli soprattutto sul calcio calcio quando tocchi il calcio i tifosi laziali si sono distinti per le minacce di morte sì 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 altro ah ok io vedendo vedendo l'ultima sull'islam maometto mi ricordo esattamente è passato troppo tempo mi chiedevo se avete la tentazione tipo un po' Charlie Hebdo di fare magari qualche battuta sull'islam e vi dite ma tutto sommato è meglio evitare una diciamo un attentato meglio non far casini anche se la tentazione è forte chi se ne frega allora in realtà le facciamo le battute sull'islam perché alla fine negli anni in cui da quando siamo nati ne abbiamo fatte diverse decine perché come sempre succede poi quando magari facciamo una battuta sulla regione cattolica allora ci dicono eh ma perché allora fate i forti così con i cristiani e poi non fate niente con l'islam per fortuna ogni tanto qualche lettore si mette lì con pazienza ed elenca tutte le battute che abbiamo fatto sull'islam e a volte sembrano cioè anche noi ci stupiamo di quante ne abbiamo fatte quindi no in realtà le facciamo poi vabbè ci aiuta molto rispetto a Charlie Hebdo il fatto di non avere una relazione fisica perché noi ci sentiamo solo online quindi no forse non sanno neanche dove venirci a trovare e poi no in realtà comunque ne abbiamo fatte comunque di più sulla regione cattolica perché nella realtà italiana che è quella che viviamo noi diciamo le ingerenze maggiori sono date dalla regione cattolica quindi è anche giusto diciamo non per forza si deve andare a cercare quello che è più lontano da noi per una specie di insomma per misurare col bilancino le battute contro le varie religioni cioè anche non lo so col buddismo non è che l'abbiamo massacrati giustamente non è che nessun buddista ci viene a dire che ne so che non posso adottare un figlio perché sono omosessuale o una cosa del genere e quindi giustamente noi vivendo una realtà una certa realtà che è quella dell'Italia ci occupiamo come potere forte in Italia della chiesa cattolica che è quella che esercita appunto questo potere la satira come sapete deve andare contro il potere il problema è che in islam e in islam i paesi islamici non fanno la satira sull'islam ma quello è il problema non è il nostro sì cioè non bisogna per forza rispettare questa sorta di parcondicio tra religioni tra politici eccetera comunque è importante valutare il contesto nel contesto italiano la religione cattolica è quella che è dominante che la fa da padrone quindi ovviamente se 90 battute sono sulla religione cattolica è normale che magari 10 siano sull'islam comunque vi assicuriamo che diverse decine di battute sull'islam sono uscite fondamentalista islamico disegna Maometto per sbaglio e si taglia la mano poi c'era quella sciolti sono vignette blasfeme sciolti centomila cucciolone perché il cucciolone ha la vignettina no? questa vignetta offende l'islam bruciate oltre 200.000 cucciolone sciolti sì poi abbiamo fatto la foto la foto quella che impazza tra i giovani la foto del ramadan quindi c'era un piatto vuoto fotografare il proprio ramadan ne abbiamo fatte molte però ovviamente ripeto la nostra religione è quella più colpita donna 50 anni rivela sono mi sono passato all'islam per potermi mettere il velo e non dovermi depilare i baffi esatto fatta da una donna ovviamente fatta da una donna dall'unica donna della redazione è ancora più offensivo per l'islam perché non le facciamo fare alle donne abbiamo una donna in redazione abbiamo una donna siamo distribuiti equamente tra una donna e 33 uomini tra l'altro questa cosa perché molto spesso ci chiedono perché avete solo una donna le quote rose eccetera eccetera qui ci chiesero questa cosa in un'intervista ci chiedono ma vi fingete tanto giornalisti d'assalto dite la verità lo fate solo per la figa noi diciamo guardate abbiamo in redazione anche una donna quindi in una certa misura lo facciamo anche per il cazzo un 34esimo lo facciamo per il cazzo ok se ci sono altre domande altrimenti vi salutiamo vi ringraziamo di essere stati qui e vi facciamo vedere il video che mi ha portato un regalino e speriamo vi piaccia grazie buon pomeriggio e benvenuti a questa edizione di Lercio News iniziamo subito con la politica piano Renzi per la digitalizzazione nelle scuole in arrivo i primi floppy disk chiesa crolla nel bellunese salvi per miracolo tutti gli ati all'esterno si lancia dalla finestra del pian terreno morto per miracolo ma lega la bici al cancello del palazzo ladri rubano il palazzo l'accademia della crusca si arrende scrivete qual è con l'apostrofo e andatevene a fanculo se si l'ha detto proprio l'accademia della crusca siglata joint venture tra folletto e testimoni di Geova per dominare il mondo che paura l'incantatore di serpenti suona un brano di Gigi D'Alessio e il cobra lo uccide ma che brutta notizia scopritore dell'acqua calda ritrova il suo brevetto e fa causa a tutti programma di Carlo Conti interrotto per cori razzisti Africa non suona la sveglia strage di gazzelle Napoli vede oggetto che emette luci colorate e avverte gli ufologi ma era solo un semaforo Magdi Allam assaggia la nutella e si converte alla Ferrero l'uomo registra sa 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 prova alla sia e diventa milionario e c'è un aggiornamento Magdi Cristiano Allam ha appena cambiato nome in Magdi Chocolate Allam Umberto Eco scopre l'etimo di etimo e precipita in un universo parallelo fallito il primo raduno mondiale degli educati nessuno è voluto entrare per primo parla Ritz il gatto ateo non c'è nulla dopo la settima vita ingerisce un litro di LSD per sfuggire all'arresto scappa a bordo di un arcobaleno sommando le citazioni di Bukowski su Facebook risultano tre libri in più di quelli pubblicati preghiere non esaudite Vaticano ritira dal mercato milioni di santini difettosi quel negro l'abbiamo visto prima noi Rissa tra Forza Nuova e Casa Pound e chiudiamo ora con un aggiornamento appena arrivato in redazione Umberto Eco trova la metafora di una metafora e precipita in un universo parallelo ed è tutto per questa edizione di Lercio News continuate a seguirci con Lercio la linea stai serena ringraziamo Simone Salis che è lo speaker tuttora la nostra voce ogni giorno su Radio 2 attualmente collaboriamo con Radio 2 Social Club di Luca Barbarossa e siamo in onda quasi tutti i giorni su Radio 2 ciao a tutti ciao a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti